Altro sangue sulle strade. Ad una settimana esatta dal tragico decesso delle sedicenne pesarese Marco Ragnetti, morto sull'urbinate a Borgo Santa Maria in sella al suo scooter mentre si stava arrecando a scuola, oggi un altro incidente mortale. Ancora di martedì mattina, ancora poco prima delle otto, ancora uno scooterista che perde la vita scontrandosi con un mezzo pesante. Questa volta il sinistro fatale è accaduto sulla strada panoramica Ardizio. A perdere la vita un operaio 49enne residente a Fano, V.O.A. alle sue iniziali, che si è scontrato con un piccolo autocarro da lavoro guidato da un 36enne pesarese. La ricostruzione della polizia locale intervenuta sul posto ha evidenziato come il malcapitato 49enne stesse percorrendo la strada in direzione Fano e ha finito per scontrarsi con il furgone che si stava immettendo da una stradina privata sulla stessa corsia di marcia della panoramica svoltando in direzione centro di Pesaro. Lo scooterista ha finito per schiantarsi fatalmente contro la fiancata sinistra del furgone. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, ma la gravità delle lesioni riportate sono risultate da subito troppo gravi. Nonostante gli immediati tentativi di non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno arginato una perdita di carburante dal manto stradale.